I carciofi I carciofi Sono quindi alleati ideali per chi vuole perdere peso e sgonfiare la pancia Non a caso, come si legge sul sito di lei, questi ortaggi tipicamente invernali e dalle mille proprietà sono i protagonisti di una dieta Che consente di perdere fino a 2 chili a settimana Leggerissimi e poco calorici, i carciofi contengono pochissime calorie, 47% grammi di prodotto, e si possono gustare come contorno, ma anche con i primi piatti e i secondi di carne, senza dimenticare gli infusi Punto intanto un consiglio per riconoscerne la freschezza? Prima di acquistare i carciofi verificate che siano sodie senza macchie Afferratene uno con indice e pollice e premente. Se non si appiattisce, allora la freschezza è garantita Partiamo dai benefici. Come detto, tra le foglie di questo ortaggio di stagione si nascondono moltissime proprietà utili per perdere peso, ma è una verdura che aiuta a stare bene in generale, non solo a favorire il dimagrimento Oltre a eliminare le tossine in eccesso, depurare l'organismo e favorire la digestione, e il funzionamento dell'intestino, il carciofo contiene un quarto di tutte le fibre vegetali che dovremmo assumere quotidianamente Rappresenta un diuretico naturale e aiuta a tenere sotto controllo la produzione dei succhi gastrici ed è benefico pure per i reni e la cistifelle e la, sgonfia la pancia e ci regala gambe più leggere Come mangiarlo? Anche crudo, a insalata, condito solo con succo di limone, o anche al vapore . Si presta, anche a tisane e decocchi, che favoriscono la digestione, e ci regalano un ventre piatto . La dieta del carciofo comincia dal mattino? Iniziate la giornata con una centrifuga a base di carciofo e menta, accompagnata da un bicchiere di acqua e limone e uno yogurt magro . A pranzo? Perfetto il riso integrale con i carciofi, accompagnato da cavoli e broccoli al vapore, mentre a cena via libera carne magra e pesce, e, ovviamente, carciofi . Ottimi, per esempio i bocconcini di tacchino con carciofi e un'insalata mista. Prima di andare a letto una bella tisana . Una al carciofo per eliminare tutti i gas dall'intestino .